Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti in questo video di calciomercato dedicato all'Udinese e al colpo Etienne Camarà In questo video andiamo a definire qual è la formula con cui il giocatore si è trasferito all'Udinese, quali sono i costi dell'operazione ma soprattutto il contratto che ha firmato il ragazzo che è un contratto di un certo spessore Dopodiché andando a ripercorrere quella che è stata la sua ultima e unica stagione da professionista con la maglia dell'Huddersfield in championship inglese, cioè in serie B inglese Andiamo a definire quello che è il suo ruolo e quelle che sono le sue caratteristiche tecniche, punti di forza, punti di debolezza, potenziale, margini e quant'altro Quindi concludiamo il video con un voto che va da 0 a 10, che va a sintetizzare un po' tutto il mio pensiero su questa operazione di mercato e con una chicca fantacalcistica per gli appassionati di questo gioco Allora, cominciamo con la formula, il giocatore arriva a titolo definitivo dall'Huddersfield per una cifra di circa 2 milioni di euro Quindi l'Udinese paga nelle casse di Huddersfield 2 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Camarache Quindi arriva a titolo definitivo È un classe 2003, quindi 2 milioni di euro di investimento sono una cifra assolutamente congrua, ponderata per investire su un ragazzo di 20 anni Quello che fa specie non è tanto il costo di trasferimento, che è abbastanza anonimo, nel senso che è una cifra che l'Udinese si può permettere senza troppe fatiche Ma quello che fa specie è il contratto Il giocatore ha firmato con l'Udinese un contratto quadriennale, quindi fino al 30 giugno 2027, con opzione per il quinto anno Ma lo stipendio netto che percepirà il giocatore già da questa stagione è di un milione e mezzo Cioè Camarache diventa uno dei giocatori più pagati della rossa dell'Udinese E arriva un calciatore giovanissimo, che ha pochissima esperienza di calcio professionistico E che arriva, almeno sulla carta, come vice Wallace Quindi si sta parlando di un investimento clamoroso a livello di stipendio Che l'Udinese è andato ad effettuare, secondo me con la copertura preventiva del Watford Nel senso che qualora Camarache non dovesse ambientarsi in Italia o non dovesse fornire le prestazioni che l'Udinese si aspetta da lui L'Udinese non può permettersi di tenere un calciatore da un milione e mezzo di stipendio netto che non contribuisce alla causa Per cui verrebbe quasi sicuramente girato al Watford che invece un milione e mezzo li paga senza problemi Perché hanno un budget delle squadre inglesi che quelle italiane se lo sognano Quindi un milione e mezzo di stipendio per una squadra inglese è veramente poco Quindi secondo me c'è comunque la protezione cautelativa del Watford Perché altrimenti, cioè dell'altra squadra di Pozzo Perché altrimenti un milione e mezzo di stipendio netto per un calciatore che è un diamante grezzo È pericolosissimo, cioè rischi di tenerti un fardello per 4 anni che ti pesa in maniera grave sul monte ingaggi Pensate che Samarzy ha 500.000 euro di stipendio Bijolle ha 800.000, cioè un milione e mezzo è veramente tanto Cioè si sta parlando veramente di una cifra clamorosa per le casse dell'Udinese Bene, andiamo a ripercorrere la sua carriera, si fa per dire Per definire però quello che è il suo ruolo e le sue caratteristiche Il giocatore è cresciuto nelle giovanili dell'Angers Ed è stato appunto individuato dall'Addersfield che se lo è preso per la squadra giovanile Nell'ultima stagione, quella appena conclusa, l'Addersfield l'ha promosso in prima squadra Dove alla fine della stagione ha collezionato 20 presenze di cui 13 da titolare Quindi nella seconda parte di stagione ha cominciato a guadagnare una certa considerazione da parte del proprio allenatore E a trovare una minima continuità in un campo di livello professionistico Questo gli ha permesso di essere convocato nella nazionale Under 20 francese in cui ha giocato anche una partita Ma soprattutto anche di attirare l'interesse dello scouting dell'Udinese Che è uno scouting assolutamente di primissimo livello per determinate categorie di calciatori come in questo caso Che ha individuato in Camarà il possibile erede di Wallace Perché è possibile erede di Wallace? Perché Wallace l'anno scorso è stato un giocatore da cui Sottino non è riuscito mai a prescindere A parte una partita che era squalificato Wallace le altre 37 di campionato le ha giocate tutte anche quando palesemente non stava bene Non era in condizione A dimostrazione di quanto il giocatore fosse fondamentale per gli equilibri della squadra Ma anche di come non ci fosse un sostituto all'altezza Che potesse farlo rifiatare, potesse farlo riposare Ma sostituirlo nelle caratteristiche L'Udinese non aveva un vice Wallace l'anno scorso E questa lacuna era assolutamente grave E andava colmata in tutti i modi Se gli acquisti di Zarraga e Quina Di cui trovate i video sul mio canale Secondo me arrivano più per sostituire Diciamo per Eira e Arslan a livello numerico In realtà Quina secondo me è il sostituto di Mack and Go che non era mai arrivato E Zarraga invece è il sostituto di Arslan Il sostituto di Pereira a livello effettivo secondo me ancora non è stato preso Però mancava ancora il vice Wallace E Camara è stato preso con questa etichetta Giocatore di 20 anni Classe 2003 che ha alle spalle solamente 20 apparizioni in serie B inglese Quindi un giocatore che deve ancora costruirsi Che ha fatto vedere dei margini Ma vi dico francamente quello che è il mio pensiero Non margini mastodontici Cioè non è un calciatore che lascia intendere di poter diventare un fenomeno assoluto È un calciatore che ha una fisicità imponente Una fisicità da... non da ventenne Da giocatore veramente già al completo della propria crescita fisica È oltre un metro e novanta Ha una muscolatura impressionante Questo gli permette di sfruttare il suo strapotere fisico per vincere duelli Anche aerei Per contendere il pallone agli avversari Ed è un giocatore che sfrutta la propria fisicità Anche per delle percussioni centrali Che non sono lunghissime Perché a livello di rapidità di passo è assolutamente rivedibile Perché questa fisicità ovviamente gli impedisce di poter essere scattante Però è capace di fare quelle percussioni centrali di 20-25 metri Palla al piede Di prepotenza fisica per poi smistarla Le sue principali caratteristiche nonostante tutto Sono in fase difensiva Nella Huddersfield sono tanti i duelli vinti Sono tanti i palloni recuperati Sono tante le interdizioni Le transizioni attive vinte da lui Ma è anche utile Vista la fisicità Per poter dare una mano alla linea difensiva E questa può essere un'opzione interessante Se si pensa che la linea difensiva dell'Udinese Ora che è andato via Becao Io mi immagino che Neuem Perez Venga dirottato sulla destra Bigiolo rimanga centrale di difesa E sia Masina quello indiziato a giocare come braccetto di sinistra Anche perché già sottile l'anno scorso Quando lo ha impiegato L'ha schierato in quella posizione Piuttosto che esterno a sinistra Dove è arrivato Zemura Per cui Masina è un giocatore che può staccarsi Dalla sua posizione in fase di possesso Perché è un ex terzino E quindi è un giocatore di gamba Un giocatore di cross E Camara è quel giocatore che ti può andare a coprire Le falle lasciate dai giocatori Anche in difesa Quindi si può andare a ricostruire una difesa a tre Eventualmente In fase di ammortizzamento del contropiede avversario Con Bijol, Neuem Perez e Camara Ha questa possibilità Che tutto sommato è quello che fa anche Wallace Perché anche Wallace è un giocatore Che recupera tanti palloni in area di rigore Soprattutto sui cross, sui duelli aerei Camara ha queste caratteristiche Assolutamente simili a Wallace Nella fase di non possesso Nella fase di interdizione Dov'è che si Che si differenzia Wallace A parte il piede preferito Che di Camara è il mancino Non è il destro Ma quello è un dettaglio ininfluente Quello che differenzia tanto Camara da Wallace È ovviamente la maturità L'esperienza Wallace ha una sicurezza Nel gestire il pallone Soprattutto nel gestire i tempi di gioco Che ha maturato negli anni Anche perché quando è arrivato in Italia Era tutt'altro che un giocatore Che sapeva gestire i tempi E sapeva gestire il giro palla Lo ha maturato con il tempo Camara questa maturità Nella gestione del pallone non ce l'ha Non ha neanche un grandissimo controllo palla Quindi potrebbe soffrire il pressing Insomma forse nato del campionato italiano Che cerca sempre di chiudere il mediano Barra regista della squadra avversaria Fin da ancora prima che riceva il pallone Camara non è un regista Non ha il piede per poter impostare È più un giocatore di ordine Ovviamente emerge in fase di non possesso Dovuto anche alla fisicità imponente Che è la sua principale qualità Però può sfruttare la fisicità Anche per tenere lontano il giocatore Che cerca di rubargli palla E per poterla distribuire Ha bisogno secondo me Di due mezzali Che lo supportino tanto In fase di possesso Al momento sarebbero Samarzic e Lovric Poi bisognerà vedere il mercato Come si evolverà dell'Udinese Però c'è bisogno di due centrocampisti Che portino sul pallone Perché Camara non lo fa Camara se lo fa rischia Perché essendo tecnicamente Insomma migliorabile Per usare un eufemismo Cioè giocatore che tecnicamente È abbastanza scadente Il rischio che perda il pallone Perché magari forza la giocata Perché soffre il pressing Quindi magari si allunga il pallone Cose di questo tipo Cose che ha già fatto anche in Serie B inglese Il rischio è elevato E se tu perdi palla davanti alla difesa Ci sono alcune squadre Che impostano anche il loro gioco Nel recupero palla Nella metà campo avversaria Per poi subito contraattaccare Sono tante le squadre in Italia Che giocano con questa impostazione Penso alla Salernitana Penso a quello che era il Lecce Che probabilmente sarà il Verona Penso al Torino Penso alla Fiorentina Sono tante le squadre che impostano l'Inter Sono tante le squadre che impostano il gioco così E quindi è pericolosissimo Per l'Udinese Affidarsi a Camerà nella fase di impostazione dal basso Perché è un giocatore che sotto sto punto di vista Al momento ha molte lacune Poi ha la fisicità E ha un discreto piede sinistro Nella precisione del passaggio Che gli consentirà di migliorare con il tempo Però al momento potrebbe essere molto pericoloso Detto questo Il giocatore arriva come vice Wallace E quindi è il classico profilo di calciatore A cui non vengano Almeno Wallace credo rimanga È il classico profilo di calciatore A cui non vengano attribuite troppe pressioni Perché appunto È un giocatore di seconda fascia Una riserva Un giocatore per le rotazioni A cui verrà dato il tempo di integrarsi in Italia Nel campionato italiano Nell'udinese nel sistema di gioco di sottile E questo è quello che di solito l'udinese fa Con i giovani che va a prelevare Alcuni sono già pronti Anche se arrivano da campionati molto distanti Altri sono giocatori che hanno bisogno Di un pochino più di ambientamento Camerà secondo me è uno di questi Per cui la coppia Camerà-Wallace Secondo me è costruita bene Perché Camerà è un giocatore Che può apprendere da Wallace I trucchi del mestiere Soprattutto in fase di possesso E che può fargli da spalluccia Quindi Wallace quando avrà bisogno di rifiatare Quando non sta bene fisicamente Evitare di mettere in campo un giocatore che zoppica Camerà potrà sostituirlo Ma al momento secondo me Il contributo che può dare Camerà È molto inferiore a quello di Wallace Poi potenzialmente può essere superiore Probabilmente sì Anche perché Wallace Parliamoci chiaro Non è un fenomeno Però è un giocatore molto diligente Utile tatticamente Che non lascia mai scoperta la posizione E quindi è un calciatore che poi Nel complesso È irrinunciabile a livello tattico Per il proprio allenatore Soprattutto quando ha i mezzali Invece spudoratamente offensive Come potevano essere Pereira Samarzic Lo stesso Lovric Che è un giocatore che apprezza molto Gli inserimenti offensivi Quindi c'era assolutamente bisogno Di Wallace Nella stagione scorsa Camerà Il suo Il suo La sua riserva E poi Il suo vice Diciamo Ma potenzialmente anche il suo erede Io però Mi tengo dei dubbi Sul suo potenziale Perché non credo Che abbia questo potenziale Enorme Che alcuni dicono di lui Sicuramente è un investimento Che a livello di cartellino Pesa poco A livello di ingaggio Pesa tantissimo Ma sono sicuro Che ci sia Il piano B Di spedirlo al Watford Qualora dovesse fallire E Però io non penso Possa diventare un calciatore Da Roma Da Lazio Da Napoli Ecco questo è un po' il concetto Non vedo In Camerà Questo potenziale A meno che Non si pulisca Non si raffini molto Dal punto di vista Tecnico Però La tecnica individuale È molto una dota Naturale Cioè Si può allenare L'intelligenza Nella gestione del pallone I tempi di gioco Si può allenare La gestione Delle fasi di gioco Però Se un piede è dritto È dritto Se un piede è storto È storto Non è che si può allenare Più di tanto Quella che è Prettamente Una dota naturale Secondo me Dal punto di vista tecnico Il giocatore Soprattutto nel controllo palla Deficita molto Mentre invece Nell'impostazione Nella precisione Dei passaggi È discreto All'Huddersfield Ha dimostrato Ma questo comunque Potete andarvelo a vedere Anche sui vari siti Di statistiche Ha dimostrato Di avere una buona precisione Nei passaggi Basti pensare Che Ve le dico La precisione Nel passaggio È del 78% 78% Di cui 71% Nella metà campo avversaria Dove è più difficile Essere precisi Perché appunto C'è meno spazio C'è più giocatori Che cercano l'anticipo Magari sei più tentato Di cercare anche la forzatura Cosa che Camara Non fa quasi mai Perché da Camara Non ti devi aspettare L'imbucata Non ti devi aspettare Il filtrante geniale È un giocatore che gioca Molto semplice Molto scolastico Molto spesso orizzontale Preferisce aprire il campo Piuttosto che cercare La verticalizzazione Ma questo va bene Per l'udinese Che gioca con il 3-5-2 Che fa dell'ampiezza di campo Un suo tratto distintivo Quindi Non è assolutamente Un deficit questo Si tratta però Di un calciatore Che Ha questo genere Di Di impostazione Andrà smussato molto Dal punto di vista tecnico Più di un tot Secondo me Però non si può fare Quindi è un calciatore Che può risultare utile Ma questo stipendio Secondo me Durerà poco All'udinese Cioè secondo me Un anno Massimo due Poi va via Ma non perché diventa Un fenomeno Ma perché l'udinese Non se lo può permettere E verrà ceduto Perché è uno stipendio Fuori portata Secondo me Per l'udinese Per un calciatore Che non ti garantisce Un certo tipo di rendimento E già Toven Che è un giocatore Che ha uno stipendio alto È stato un flop L'anno scorso Rimarrà in questo Precampionato Sta facendo anche bene In coppia con Beto Però è un calciatore Che deve alzare drasticamente Il suo livello Perché se no Per l'udinese Sono conti in rosso Questi rendimenti Con questi stipendi Quindi Non lo so Non mi aspetto Da Camarà Che possa essere Un caposaldo Dell'udinese del futuro Questa stagione Sicuramente Già sarà molto indicativa Come vice Wallace Dove migliorerà tanto Mi aspetto Che nella seconda parte Di stagione Inizia a giocare Con più frequenza E ad alternarsi A Wallace Però La prima parte Di stagione Lo vedo un pochino più Ai margini Quindi Che voto do A questa operazione Do 6 Do 6 Perché È un giovane interessante È un giovane Di prospettive Non abnormi Ma comunque interessanti È un calciatore Che serviva Nella rosa Perché il vice Wallace Era necessario E il profilo giusto Per vice Wallace Era proprio un giovane Di 20 anni 19 anni Presumibilmente Dall'estero Un calciatore Che potesse apprendere Da lui I trucchi del mestiere Ma potesse dare Un futuro all'udinese Quindi Il profilo Dal punto di vista Anagrafico E dal punto di vista Tattico È corretto Ed è quello Che serviva all'udinese Mi sdubbia un po' L'investimento Dal punto di vista Dello stipendio Che è veramente alto E anche La Il suo La sua Limitatezza Dal punto di vista Tecnico Che può essere migliorata Ma fino a un certo punto Quindi Credo Che Possa sostituire Wallace Ma È diverso Il contributo In campo Che può dare Rispetto a Wallace Anche se la posizione È la stessa In fase Non possesso È simile In fase di possesso È molto differente Perché è un giocatore Che è molto più pericolante Nel possesso palla Quindi costringerebbe Le mezzali A doverli stare Più vicino Almeno questo È quello che credo Quindi è un colpo Tutto sommato Secondo me Senza infamie Senza lode Che è una scommessa Ovviamente Della proprietà Che Qualora dovesse essere vinta Ovviamente Sarebbe un grandissimo colpo Però Secondo me I margini Di successo Di questa scommessa Non sono così alti Come vengono descritti A giro Sulle varie pagine sportive Secondo me Il giocatore È a molto meno potenziale Di quello che si dice Quindi per me è un'operazione da 6 Al fantacalcio Ovviamente è un calciatore Che tutt'al più Potete prendere In coppia con Wallace Se fate fantacalci Particolarmente numerosi Da 10 partecipanti o più Oppure se giocate al mantra Se giocate al mantra È importante E utile avere le coppie Perché Avere la riserva del titolare Vi serve per essere coperti In un ruolo Dove magari avete Soltanto 2 o 3 elementi E quindi è meglio avere I giocatori della stessa squadra Fatto sta Che la coppia Wallace e Camara Secondo me Non è da fantacalcio Sono calciatori Che prendono cartellini Che non Che non fanno bonus Non battono i piazzati E difficilmente Fanno gollo assist Che E che A volte anche i pagellisti Non valorizzano Magari fanno Un grande lavoro sporco Ma prendono il 6 I nostri minzito Perché Al pagellista Di un po' Tutte le testate Diciamo Gli si illuminano gli occhi Quando vede la giocata tecnica Piuttosto che la giocata tattica E quindi Sono calciatori Che secondo me Al fantacalcio Servano poco Francamente Servano poco Quindi Camara Può essere giustificato In un fantacalcio Mantra numeroso Altrimenti In coppia Con Wallace Altrimenti Non è un profilo Da fantacalcio Come non lo è Wallace Il mio video Si conclude qua Mi invito a scrivere Nei commenti Cosa ne pensate Di questa operazione Di mercato Mi rendo conto Di essere andato Un po' controcorrente Rispetto all'opinione Comune Però Io pubblico Sul mio canale Quello che è il mio pensiero Quindi Cerco ovviamente Di diffondere Un'informazione Diversa Quando è diversa Ma Mi rendo ovviamente Disponibile A critiche E anche poi A rimangiarmi la parola Qualora poi Il giocatore Dovesse avere Un rendimento Completamente diverso Da quello da me Pronosticato Vi invito A iscrivervi al canale Se non lo siete Per supportarmi Se volete Anche altri video Comunque Tutti i colpi Dell'Udinese Zarraga Zemura Quina Brenner Ve li ho portati Tutti sul canale Quindi dell'Udinese Trovate tutti i video Dedicati Noi ci vediamo Ai prossimi video Dedicati alle altri Colpi di mercato Della finestra estiva Di questo calciomercato E ai fantamercati Ho già preparato Anche quello dell'Udinese Però nella scaletta Non è immediatamente Tra Insomma Non è tra le mie prossime Pubblicazioni di fantamercato Ma arriverà anche Quello dell'Udinese Tra fine luglio Inizio agosto Ci vediamo dunque Ai prossimi video Un carissimo saluto a tutti Ciao